chi di noi invitato a una festa non vorrebbe avere un amico che ti presta un aereo per andarci soprattutto se quella festa in florida quindi dall'altra parte del mondo rispetto a dove stai beh per ned il protagonista di fortunatamente di orecchio acerbo non è proprio dall'altra parte del mondo ma è dall'altra parte dell'america questo albo è uscito in america a metà degli anni 60 ed è stato pubblicato qualche anno fa dalla casa editrice orecchio acerbo che è una delle case editrici più importanti nella pubblicazione degli albi illustrati in italia fa delle scelte con con molta cura anche andando indietro nel tempo quindi non pubblicando necessariamente novità ma riuscendo a portare in italia anche dei grandi classici come in questo caso le michelle lip è stato un grande scrittore illustratore e artista a tutto tondo come si dice insomma su su vari fronti è morto poco dopo la pubblicazione del libro in italia e in italia fortunatamente ha avuto un grandissimo successo giustamente ha vinto dei premi il rischio di leggere fortunatamente è che dopo averlo chiuso vi potreste esprimere soltanto dicendo fortunatamente e sfortunatamente perché tutto il gioco del libro è su queste due parole succede questo appunto che fortunatamente ned riceve un invito per andare a una festa e questa pagina in cui c'è la notizia fortunata della giornata o di quel momento viene raccontata da sherlip a colori perché appunto negli albi illustrati i colori le illustrazioni e le parole possono dialogare tra di loro quindi nel caso di un genio come come sherlip vedete che quello che lui dice con le parole corrisponde ma in maniera appunto più profonda più intensa a quello che disegna quindi fortunatamente c'è qualcosa di bello c'è una festa ma sfortunatamente e lì nella pagina accanto la pagina diventa grigia scompaiono i colori quindi sfortunatamente non ci si può andare a questa festa perché dall'altra parte del mondo ma fortunatamente c'è qualcuno che presta ned un aereo del resto chi di noi non vorrebbe a un certo punto risolvere tutti i propri problemi di spostamento soprattutto in questo periodo con un aereo personale e così via l'albo è tutto costruito su questo duplice gioco fortunatamente sfortunatamente alternando quindi una pagina colorata e una pagina grigia una pagina in cui c'è qualcosa di positivo è una pagina in cui c'è qualcosa di negativo non voglio dire mai il finale dei libri neanche di quelli brevissimi perché è bello leggerli tutti in un fiato però certamente essendo un libro per bambini potete immaginare che c'è un finale pieno di colori pieno di speranza ma per arrivarci ci sono tanti sfortunatamente per arrivare al fortunatamente finale e tutti tutte le volte che qualcosa non va quindi l'aereo precipita ci sono tunnel ci sono animali affamati il viaggio verso la florida non sarà un viaggio facile quindi tutte le volte che qualcosa non va noi abbiamo una pagina di sfortunatamente ma sappiamo subito che nell'altra pagina successiva così come nella precedente ci sarà un fortunatamente gli albi illustrati si costruiscono così con un'idea semplice ma questa idea semplice quando è sfruttata utilizzata dalla mente di un genio consente di in poche pagine di condensare una storia che unisce davvero un'idea di montagne russe perché alla fine è tutto come un salire e scendere tutto raccontato come un salire e scendere come un essere innalzati verso qualcosa raggiungerla stare per raggiungerla e alla fine precipitare con una serie di peripezie succedono più cose nell'albo fortunatamente di remy charlip che in non so quattro romanzi consecutivi no tante volte perché succede succede davvero tanto capito davvero tanto e i bambini leggendolo posso dirlo per per esperienza personale si divertono tantissimo si appassionano e cominciano a capire a seguire il gioco anche quando viene loro letto questo libro perché sanno già no l'albo cosiddetto un po catalogo quindi l'albo che si gioca tutto sulla ripetizione crea un effetto attesa e un effetto sorpresa un effetto attesa un effetto sorpresa continuo no quindi sono davvero dei dei labirinti emotivi delle montagne russe emotive per cui succede di provare speranza disillusione e poi di nuovo coraggio nel giro di pochi minuti la cosa che mi piace fortunatamente è che lascia molta speranza ma soprattutto lascia ai bambini moltissima fiducia nel fatto che oggi va male ma domani andrà meglio ma non andrà meglio perché ci sarà l'intervento sempre di un agente esterno di un amico di un aereo che arriva dall'alto no a volte andrà meglio perché ned si saprà ingegnare per uscire da quella situazione quindi fortunatamente c'è l'ingegno sfortunatamente c'è la fortuna oppure al contrario a volte no fortunatamente c'è la fortuna sfortunatamente c'è anche un po di di ostacoli ci sono anche un po di ostacoli un po di intoppi e da un punto di vista grafico proprio le illustrazioni di sherlip ci ci portano innanzitutto in un'altra epoca possono fare appunto questo cosiddetto effetto vintage prendendolo in mano questo albo e contemporaneamente però ci accorgiamo di quanto innovativa rivoluzionaria sia stata la sua la sua arte la sua immaginazione perché sono delle illustrazioni molto ricche e però anche molto semplici quindi hanno un effetto immediato soprattutto io resto sempre ammirata quando un illustratore un grande illustratore è anche un grande scrittore capita qualche volta non sempre devo dire ma quando succede come nel caso di leo lionni oppure di maurice sendak appunto in piccolo blu piccolo giallo oppure nel paese dei mostri selvaggi c'è sempre una sensazione di grandiosità quando va bene ognuno di noi ha un solo talento non ne ha più d'uno e invece in questo caso ce ne sono due che sono uniti e che dialogano tra di loro forse il caso di dire sul sul fortunatamente di sherlip che ha vinto tanti premi e che quindi a volte fare una scelta coraggiosa pubblicare un libro anche molto vecchio può premiare perché quando è uscito all'inizio del secondo decennio degli anni 2000 è stato eletto miglior libro nella nella sezione 6 9 anni del premio anderson italiano è diventato il libro dell'anno sempre per il premio anderson e poi ha vinto anche un altro storico importante premio della letteratura per ragazzi che c'è ormai da molto tempo che il premio scelte di classe grazie a tutti grazie a tutti